Circa 20 anni fa Sicilia Antica, col nome di Sicilia Antica Adrano Bianchevilla, funzionava fra Adrano e Bianchevilla, appunto anzi ricordo che il sindaco di allora qui di Bianchevilla aveva messo a disposizione i locali del teatro per le riunioni eccetera. Poi come tutte le cose belle purtroppo è finita, è caduta nell'oblio, insomma è finita. Due anni fa ad Adrano è stata rieperta Sicilia Antica, io ne facevo parte fino a poco tempo fa, ero il segretario della sezione, poi ho avuto questa voglia, questa volontà anche perché spinto da altri biancavillesi di fare una sezione qui. Non è stato possibile farla Sicilia Antica Adrano e Bianchevilla per motivi che qui non sto a dire, ma comunque adesso finalmente ci siamo, siamo stati autorizzati, ieri eravamo in una riunione regionale a Paternò ed è stata molto bella, molto intensa, l'altro giorno abbiamo avuto il battesimo di questo nuovo gruppo e siamo stati a visitare i nostri molini d'acqua, purtroppo i ruderi perché abbiamo dovuto notare che c'è molta sporcizia, molte erbacce, molto abbandono e vorrei ricordare solo per citarne uno, il molino ultimo di Ciappe, proprio l'ultimo, è di proprietà esclusiva del comune di Bianchevilla, compreso il territorio sotto quel piccolo pezzetto, basterebbe poco, basterebbe togliere il bacio, mettere qualche etichetta, mettere qualche luce e già si avrebbe un piccolo passo per andare a offrire, diciamo, qualcosa ai turisti, a chi viene a Bianchevilla. Il prossimo appuntamento, dove sarà Sicilientina? Allora, forse, ma ne dovremmo parlare ancora nel direttivo, pensavo di andare a visitare la Santa Maria di Licodia Vettussa, la vecchia Licodia, anche lì ci sono dei molini ma ci sono anche opere murarie romane, e poi la torre campanaria di Licodia che è normana, è attorno al 1000-1100, che è di pregio con le fatture, quindi pensavamo di fare questo.